A Milano c'è la Casa del Parco, in via Paleo K numero 5, proprio vicino il Castello Sforzesco. Questa casa, nonostante sia stata restaurata molte volte, subisce ancora strane anomalie. Porte che si aprono da sole, rumori che si verificano, istanze vuote, come passi, ticchettii. Sì, secondo alcuni sarebbe infestata dallo spirito di una donna, dal nome di Isabella Lampugnano, che perse la vita nel 1519, uccisa dal succizio della ruota, e successivamente il corpo venne bruciato, con l'accusa di stregoneria. Secondo alcuni testimoni, chi vaga nei pressi del parco, nell'evicinarsi anche della casa, potrebbe imbattersi proprio nello spirito di Isabella. Questa successivamente lo schiernirebbe ed eriderebbe in modo alquanto vivace. Iscriviti al canale e condividi i video agli amici. Attiva le notifiche per essere aggiornato sui nuovi video.